L'Azzurro è live, siamo al 15 di ottobre. L'Azzurro è sempre a Casano, domani in partenza. Arrivano continue notizie negative dai vertici di Stato. L'Azzurro è un attimino in crisi. L'Azzurro è un attimino. L'Azzurro è un attimino. L'Azzurro è un attimino. L'Azzurro è un attimino? L'Azzurro è un attimino. Non ho capito. L'Azzurro è un attimino. 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 L'Azzurro è un attimino.